Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Trolliamo su Minecraft Oggi come vedete non siamo sul server, su quell'altro server, cioè su BarterCraft Ma oggi siamo su Fear Games, dato che ho scoperto una cosa bruttissima Su BarterCraft non si possono fare gli MSG, che sono tipo dei messaggi privati E quindi se non si può fare MSG non si può trovare bene la gente, cioè non si può prendere di mira soltanto uno Quindi oggi siamo su Fear Games perché si possono fare gli MSG Ok andiamo subito su azioni, ecco Quattro lavo sempre, me lo ricordo Ok, allora dove siamo? Ah, allora Qua Allora, per prima cosa comandi salto automatico mi scordo sempre di disattivarlo perché ogni volta che... Allora, vediamo se qua si può fare MSG Allora, vediamo... Sì, è un... Sì, si può fare da qualsiasi persona Quindi, ad esempio, se noi mettiamo... Ah beh, per prima cosa mettiamo un Warp Warp Perché? Allora, Warp... Ehm... Warp... Mmm... Warp deserto Warp deserto potrebbe essere buono Ok Allora... Ehm... Vediamo se... Vediamo se... Ah, PvP attivo, ok Allora, questa non potrebbe non essere una buona cosa Ma... Ehm... Allora Mmm... Ok Ho tutto Quindi se mi smette di laggare Posso anche fare in realtà Warp cittadella Perché non sono tanto sicuro qua E... Wow, che figo la cittadella Ma l'hanno aggiornata per Halloween Ok Allora Ehm... Per prima cosa Troviamo un player a random tipo questo qua Anzi no, che credo sia FK Allora MSG Ehm... Qualsiasi Ad esempio Il primo che chatta si becca il mio MSG Eternus Ok No... Ah Ehm... An... Antoni Ok Mmm... Ciao Vuoi Ehm... Ehm... Regà Che... Che suono era quello di prima? Boh Allora Ehm... Ehm... Antoni Ciao Ci risponde proprio Tra l'assurdo Ehm... Allora Ehm... Qua c'è Ehm... Ok Allora Ehm... Non ci risponde Quindi Credo che forse non sa manco che cosa sia Ehm... Comunque... Allora Ehm... MSG 1 Ehm... Vi scriviamo un messaggio a caso Così a caso Allora Ehm... Anzi Alessandro Basi Ehm... MSG Ehm... Alba Ehm... Io Ti Ucciderò Sono Sono Hero Brain Questo Funziona sempre Ragazzi Cioè Allora Vediamo se mi risponde Dai 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 Rispondimi 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 Cosa è questo Tu dici Ok Ma Ok Dice tu dici Ma io Sono Mostruoso Con Armatura In Armature Di Diamante Cioè Vi immaginate un'armatura Con un'armatura di diamante Intanto Siamo Entrati da qualche parte Comunque Ehm... Intanto Magari Ammattiamo sti tizi Che non mi sembrano tanto Facevoli Ehm... Allora Vediamo chi ci risponde Che Cosa ci risponde Oddio ma Mi stanno anche uccidendo Ok Beh Fai niente Allora Ehm... Non ci risponde più Non ci risponde Questo potrebbe essere un problema Ehm... Allora Non ci risponde Quindi Ehm... Allora Non 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 ci risponde più Quindi MSG Qualcuno Ehi Tu Sei stato Selezionato Per Vincere Quattrocentomila Diamanti Allora Ehm... MSG Ehm... Cosa? Ehm... Allora Alex... Alex barbecue Ehm... Basta Che Ti Fai TPA Ehm... Ehm... Non... 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 Boh... Non... Non... Non accettano Allora Noi mettiamo Ehm... Allora andiamo in chat Ehm... Perché Andremo a scrivere tipo Io sono Così potente Che ho Diecimila Diamanti Ehm... Vediamo se qualcuno ha bocca Vediamo Ehm... Grandi Giuliano Ehm... Io Infatti Ho I Diamanti Fatti Di Bloc Chi Di Diamante Ok Vediamo Uno ci ha Proposto TPA Allora TPA Ehm... TPA Ehm... Allora Fenice 04 Fenice 04 Ok Allora Se Ah Ah no niente E' allo spawn Quindi no niente Pensavo che fosse in una zona PvP Non avevo molto ben capito Comunque Se ci fa Ok TPA E allora Boh Allora Ehm... Allora Ehm... Potremmo Per ultima cosa Se non l'aveste ancora capito Una trollata Significa ammazzare un giocatore Quindi Adesso Muniamoci di Ehm... Alex Barbecue TPA Accept Ok Ok d'accordo Magari PvP E... Eh no niente 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 No no Pensavo che forse... Non so quindi Vabbè Abbiamo ancora dei kit Kit Ah ho kit inizio Allora Ehm... Con questo Forse potremmo trovare alcuni Ehm... Ad esempio Che ne so Questo Su questo server Non è che sia Non è che si possa tanto trollare Raga Ehm... Oh 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 Ma questi sono i... Cioè Mh... Questi sono le buone maniere No dai È un'ora per utilizzare il kit Allora ragazzi Oggi non abbiamo Non siamo riusciti a trollare Ci abbiamo provato Comunque Ehm... Scusatemi Magari sono un pochino fuori allenamento Continuerò a trollare Magari troverò un server In cui proprio riesco a trollare Troverò i migliori Modi per trollare Ehm... Ragazzi Ci vediamo alla prossima puntata Perché in questo server Proprio non riesco a trollare Comunque Un pochino di troll Li abbiamo fatti Almeno abbiamo fatto credere A qualcuno Che avessimo Diecimila diamanti E quello dai Si poteva Ehm... Poteva essere Un mini troll Ehm... Non abbiamo fatto troll Ma Ehm... Ma Almeno Siamo riusciti A divertirci un pochino Ehm... 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 Allora Con questo si conclude la puntata Un saluto da Dissuanjuwan Ehm... Mettete un like Che tanto non vi costa niente Quindi mettete un like Qui sotto Ehm... Poi iscrivetevi Che se il canale arriva a 100 iscritti Ragazzi Farò un mega speciale Che non vi voglio spoilerare E con questo posso dirvi Ciao a tutti Ehm... Grazie.